Cosa stai facendo? Dobbiamo registrare il Potion Punch! Non mi interessa, mi serve un baule! Dammi un attimino che vinco una partita e poi facciamo Potion Punch! E' più importante il baule di Clash Royale, ok? Va bene? Non mi disturbare! E ragazzi, come va? Io sono Feriniki! E io sono Steph! E questo giociamo a Potion Punch! E come non potevamo tornare su questo fantastico gioco, dato che siete letteralmente impazziti! Cioè, tantissimi commenti, tantissimi like, tantissime persone che l'hanno scaricata e ci hanno detto che non riescono proprio più a staccarsi assolutamente! Quindi, ovviamente, secondo episodio! Direi che i consolini hanno apprezzato questo gioco e siamo davvero felici perché adoriamo portare dei giochi che nessun altro fanno! Appena suonata il citofono faremo finta di nulla! Infatti mi sono un attimino confusa perché non capivo rumore! Appena iniziate a registrare ci suonate il citofono e noi non rispondiamo, giusto? Giusto! Giusto! Rimanete fuori! Dicevo che siamo davvero felici quando portiamo un gioco che su YouTube nessuno ha fatto o quasi nessuno e voi ve lo guardate lo stesso, ci date lo stesso una possibilità e lo apprezzate! Ci fa davvero super piacere la cosa che per noi è più importante! Infatti era quello che volevo dire prima che mi confondesse il citofono! Ormai l'ho detto io, quindi ormai le belle parole delle lette, Steph! Ormai è rovinato, è rovinato! E continuano a suonare! Guarda che scatole! Era il postino, come sempre, 9 volte su 10 quando suona nel postino, finalmente possiamo iniziare il video! Andiamo! Credo che qualcuno si è già accorto che sì, ho giocato un pochino! Solo 10.000 monete! Cosa vuoi che stiano le fa in due giorni? Siamo al ventitresimo giorno, io ho pensato, perché non è che ho giocato perché mi piace il gioco, no! Ho giocato per il canale, ok? E volevo arrivare ad un punto in cui eravamo vicini a 30 giorni, perché a 30 giorni teoricamente sblocchiamo la seconda zona! Quindi mi sono sacrificato e ho nerdato a questo gioco per i consolini e anche per te! Attaccato al gioco, senza fermarsi un attimo, certo! Proprio una faticaccia, vero? Sì, sì, sì! Ti sei divertito molto! Qualcuno doveva pur sempre farlo, no? E qualcuno, il duro lavoro! Io invece non ho voluto vedere niente! Ok! Perché voglio lasciarmi la sorpresa per questo video! E allora hai un po' di sorprese perché ci sono un po' di aggiunte! Sì, voglio vedere cosa tutto c'è, voglio la sorpresa proprio perché questo gioco è fantastico! E vabbè, due gecchi! Due gecchi! E poi le vedi questo barattolo con i cuoricini? Oh, che bello! Non mica l'avevo visto! Lo so che non si notava! Adesso te lo faccio vedere appena ce lo chiedono! È qualcosa per decorare le bevande? Dimmi come si fa il marrone, tutti i colori? Sì! Oh no! Tutti, sì! No ragazzi, non sto capendo nulla! Allora, secondo me devi mischiare l'arancione col blu! No, no! L'arancione col blu e facciamo il marrone! Ok, una cosa per volta! Tieni! Lui è andato! Tieni! Tieni! Ok! Ok, mamma mia! Ho già capito che cosa serve i cuoricini! È fantastico! Metti il cuoricino nel bicchiere e non ci credo! Vabbè! Esattamente! Allora, aspetta! Ta! Con ta! E sei felicissimo perché hai ricevuto quello! Poi il verde si fa così! Ti metto un cuoricino qua! Ti do un gecco così ti tranquillizzi! Ti do il verde a te! Ok! Ok, creo un altro verde! Metto un serpentino! Cioè, ma è difficilissimo! Diventa impossibile! Tieni il blu! Facciamo qua! Devo dare il blu a destra! Tieni un bellissimo gecco così te ne vai e ti togli subito che se no non capisco più nulla! Devi dare il blu al cuoricino, bravo! Tieni questo! Il verde era... Giallo e... Giallo e blu! Giallo e blu, sì! Tieni! Giallo e blu! Ok, devo fare anche un viola! Il serpentino! Devi mettere il serpentino! Scusi! È impegnativissimo! È finita la giornata, dai! Le ultime ordinazioni e poi tirare un sospiro di sollievo! Ok, andata! Ma l'ospite in tutto questo è mai arrivato? No! Cioè, ha tirato un pacco più grande di noi? Sì, sì! Proprio... L'ha pure impacchettato! È tirato in testa! Cioè! Va bene! Comunque è questo! E poi ho letto anche dei commenti che dicevano... Che è arrivato subito! L'ospite arriva subito! Quindi cosa abbiamo sbagliato? Forse siamo noi il problema! Un po' tipatici! Noi! Comunque hai notato che ci sono tutte le sedie dietro? No! Locale, locale! Wow! E beh, stavo guardando tutte le ordinazioni come faccio... Attento ai dettagli! Ma dai, ascolta! Stavi impazzendo te, figurati io! Guarda adesso! È figurativo! Tu sei ferma! Che cosa impazziscono? Sì, ma è difficile da capire tutto! Le vedi? Ok, sì! Quelle le ho giunte io potenziando! Le sedie? Sì! Ah, non c'erano prima? No, ho potenziato il locale! Bello, bello! Carine! Sì, mi piacciono! Allora, iniziamo a mettere il cuoricino! Sto cercando di creare anche un bel marrone! Inizia a dargli il blu, così lui è felicissimo ne mentre... Esatto! Sto già impazzendo! Ta, ta! Però stanno meglio, eh! Questa volta sono... Più concentrato! Più ordinato! Più ordinato! Sto diventando un ottimo barista! Racconta una storia a loro! Io? Sì, 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 sei brava! Io ne conosco storie! Una storia ai clienti, dico, eh! Ah, ai clienti? Sì! Sono loro che la dovrebbero raccontare a noi, dovrebbero raccontarci la storia delle loro gesta, dato che poi sono tutti i cavalieri! Ecco l'ospite! È lui! È lui! È lui, finalmente! Li abbiamo subito! Aspetta! Aspetta, ignoriamo gli altri clienti, proprio sinceramente non mi frega più nulla! E finisce così? Ok! Ma non è che magari è già arrivato e tu non l'avevi mai visto? Perché anche questa volta non è che l'avevi visto! E beh, può essere, può essere! E abbiamo ignorato Chester! Il gioco ti fa impazzillire, quindi non è che stai proprio a notarlo di brutto! E io l'ho notato perché... Non lo escludo! Li stavo guardando i cavalieri, ho visto lui con l'armatura dorata, ho fatto, mio Dio, mio Dio, è lui! E l'ha detto come sta andando bene? Sì, sta andando benissimo, bravo, bravo, bravo! Sto riuscendo a tenere in ordine la locanda, guardate, tenga! Grazie, arrivederci! Buona giornata! Opla, opla! 14 clienti serviti per 200, quanto era? 280, comunque è 250! 200... Raddoppiati, 620! Certo, certo, certo! E abbiamo 2.300 da parte! Non male! 25esimo giorno completo, arriviamo al trentesimo e continuiamo! Sono stanco morto, ma ce l'ho fatta! Giorno 30 completato, 4.900 monete che ci sono rimaste, ne abbiamo guardato 1.000 soltanto questa giornata che la trenta era super speciale, super complicata! Adesso, teoricamente, noi dovremmo avere... Ecco, wow, hai già completato 30 giorni! Forse è arrivato il momento di aprire una nuova serie! Sire proprio di sì! Sire proprio di sì! Signo, ma è tu hai proprio ragione! Scopri se riesci ad aprirne una a miniera di cingalferro! Vediamo, ok! Certo che facciamo, siamo fortissimi! Allora, Lucchettino! Attenzione, le miniere non sono proprio come stare a casa della nonna! I minatori hanno sempre sete, persino più di un cavallo di guerra che trasporta un orco di 300 chili con tutta l'armatura da battaglia! Ok! Ok, quindi sarà complicato gestire... Sarà una bella sfida! Ma secondo te... Dimmi! Se prendiamo questo, cioè... Dimmi! ...ci trasferiamo qua o dobbiamo gestirle tutte e due? Secondo me... ...mi farei la voce da gnomo, cioè... Secondo me scegli tu dove giocare come e quando vuoi! Dici, quindi va un po' da una parte... Esatto, esatto! Vedremo, vedremo un po' che... Comunque, 4.000 monette ce le abbiamo, lo possiamo sbloccare... Ed eccola qua, sembra bellissima! E ti dico pure una cosa, i potenziamenti che noi facciamo, anzi, gli ammodernamenti che noi facciamo... Che ancora stanno cercando di scrivere la stag! Ancora stanno cercando di scriverlo! Sono solo per i villaggi di buonaventura! I potenziamenti di miniera e cinghielferro saranno altri e li dovremo fare! Ok, ok, quindi tutte cose a parte da fare! Partiamo con una bella pubblicità! Signorina, è pronta la sua prima giornata in miniere di cinghielferro? Ormai mi diverto a fare la voce dal gnomeetto! Ma scusa un attimo, come possiamo avere una locanda dentro le miniere? È una figata, infatti! È un po' strano, un locale new age! Vendi 350 pozioni, guadagna 1.500 imance, vendi 20 gemme, acquista tutti gli ammodernamenti miniere e completa 50 giorni! Cosa saranno queste 20 gemme a nani? Qualcosa che dobbiamo vendere di nuovo! Sono pronto! Sono gasatissimo! Vediamo come sarà questo posto! Dai, veloce, veloce! Tanto c'è il gnomeetto che ci parla, secondo me! Bellissimo il posto! Allora, per adesso... No! Quello è saltato! Per adesso è un po' spoglia la miniera, c'è un tavolino, è molto basilare! Beh, vabbè! E ci sono le stesse cose a parte con l'arancione! Quello arancione vedo che ha la forma di una setta! È arrivato un nano, un nano della miniera! Bellissimo! Lui è sicuramente il più importante da pagare! No, ragazzi, no, 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 siete già troppi! Vabbè, vabbè! Basta, basta! Io me ne vado in pensione, sinceramente! Sì, abbiamo lavorato fin troppo! Sono vecchio ormai, non me ne frega più nulla! Allora, ti do una setta con questo rosso e devi essere felice per almeno un'oretta! Ok, quindi calmati! Sì, sì, guarda com'è calmo! Ho visto, ho visto, ho visto! Noi facciamo così, così, cos'ha? Bravissimo, Steph! Bravissimo, Steph! Non ne stai ancora perdendo neanche uno! Un altro nano dalla miniera! Questi vogliono tutti le sette! Gli piacciono proprio... E tu gli dai cuori! No, non ce la faccio! Non ce la faccio! Non capisco più nulla! Non capisco più nulla! Non capisco più nulla! Odio le miniere! Sì, è davvero difficile! No, ma sai qual è il problema? Che tutti i potenziamenti che ne avevamo non ce ne abbiamo più! Però la difficoltà è rimasta quella che avevamo nell'altro! Quindi è il caos più totale! Boh, non ho parole! Sinceramente non ho parole! Almeno pagano molto! No? Insomma! 500! Guarda, davvero, sta miniera la facciamo esplodere! Ce ne torniamo nella nostra bella locanda a fare le cose con calma, rilassati, bellini, carucci! Più o meno, rilassati! Perché non è che sia poi così tutto questo rilassamento! Abbiamo completato qualcosa qui! Guarda, 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 guarda! Sedi aperte! Una! Apri un negozio miniero di cinghelferro! Mille monete! Grazie! Grazie, almeno questo mi rincuora un pochettino! A parte il fatto che non uscivo a cliccarlo! Ok, però adesso ti ha rincuorato! 2500 monete! Qua comunque, guarda! Ci mancano un po' di emblemi bonus! Dobbiamo finire di comprare gli ammodernamenti e poi completare 50 giorni! Quindi siamo ancora messi malì, no? Però secondo me il bonus quando finisci totalmente un posto! Secondo me è fighissima! È molto figo! E nel momento in cui lo finisci poi non ci torni più! Quindi penso funzioni così! Nel momento in cui lo completi, ti sposti sugli altri e ti concentri su quelli! Avrebbe senso, avrebbe senso! Qua su sedi, che è la cosa migliore! Bonus pazienza! Aggiungiamo un po' di tavolini! Ta 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 ta! E poi... Ottieni mance e non ce ne frega nulla! Perché sinceramente per ora è proprio una tortura! E stendiamo un po' la giornata! Ah, vedi, adesso li separa in villaggio e villaggio! Beh, sì, sì, assenza, 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 assenza! Questo poi costava mille... Ascolta, dai! Tutto sulla pazienza! Così saranno super pazienti! Un sacco di tavolini! E poi se ce la faremo! Guarda adesso i tavolini che si sono aggiunti, eh! Adesso li vedremo perché era vuoto! È bellino infatti questa cosa che vedi una progressione anche della miniera! È certo, è certo! Dai, carica! Dai, veloci, su! Eccoli! È bellini, bellini! Tipo di pietra, esattamente come la miniera! E ancora non abbiamo visto che cosa sono le gemme! Guarda che stratega che sono! Che inizia a riempire un po'... Bravo! Perché così sono pronta a qualunque evidenza! Infatti adesso lei ci chiede un rosso! Spim! Non se l'aspettava subito pronta la pozione, signorina, eh! Qui alle miniere siamo velocissimi, signorina! Qua siamo super professional! Siamo super bravissimi! Siamo abituati a servire i nani più... Più assetati! Ecco di nuovo Chester! Ciao! A trovarci anche nelle miniere! Ci diamo un coricino più che volentieri, guarda! Ormai è un cliente fidato anche Chester! Tenga, tenga, arrivederci! Paga bene però, per favore! Grazie! Tenga, nano! Guarda con che velocità! Lo dica i suoi amici nani, grazie! Infatti è arrivato un altro amico nano! Lo dica che è la locanda migliore di tutte le miniere! Di tutte quante, proprio! Allora, lei ci sta mettendo un po' in difficoltà! Hai arancioni! Questa arancione ci rovina un po' il ritmo! Devo essere sincero! Quindi, sinceramente, boh! Se i suoi amici sono tutti così... E anche l'altro ti chiede l'arancione! Non li porti qua, per favore! Grazie, arrivederla! Applauso per Steph! Bravo! Se la meditazione ci sta dopo che finisci... Sì, decisamente, sì, 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 sì! Ok, ho finito! Tutto lo stavi chiedendo! Terza giornata è andata bene! Ci siamo fatti una buona figura! Qualcuno ha aspettato un po' troppo, devo essere sincero! Però, comunque, siamo andati abbastanza bene! La miniere cinghialferra è arrivata al 9%, siamo dei talenti nati proprio, una roba incredibile! Gente brava come noi non si era mai vista! Ci fermiamo così per questo video! Speriamo che vi sia piaciuto! Credo che continueremo a fare questa miniserie se continua a piacervi! Però, nel caso, andiamo sempre un altro pochettino avanti! Cerchiamo sempre, ogni episodio, di mostrarvi qualcosa in più! Perché, comunque... Se altrimenti può risultare monottono! Può risultare monottono! E ci piace mostrarvi sempre di più, sempre di più, sempre di più! Prossimo episodio è il Regno del Leone di Fuoco! No, stavo scherzando! Stavo scherzando! Sennò è tra due mesi, prossimo episodio! Da burlone! Voglio vedere, per la foresta selvaggia, cosa ci chiede? 10.000 monete e 30 giornate di miniera! Ok, le faremo molto volentieri! Ok! Magari ci lasciamo, senti me! Quasi pronti! Cioè, proprio il villaggio di Buonaventura, praticamente finito, che lo finiamo durante il video! E le miniere di cinghialferro, poco alla fine per i 30! Così, vediamo il bonus di villaggio e magari vediamo la foresta! Assolutamente sì! Beh ragazzi, se ti dimentichi, se ti dimentichi, sentici un bel like! E se è la prima volta che vedete il nostro video, potete considerarvi di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi! Ciao e alla prossima! Ciao ciao! Ciao!